Camper Magazine, il programma dei turisti in movimento, torna per farvi viaggiare. Anche state comodamente seduti davanti alla tv sul divano di casa vostra. Ed ora scopriamo insieme cosa vedremo in questa nuova puntata. Per Italian Camper andremo alla scoperta di Solferino, conosciuta per la famosa battaglia da cui prese il suo nome. Ci sposteremo poi a Nola per seguire la quarta festa di primavera. Per prodotti e produttori vedremo le ultime novità presentate da Casa Arca e Showson. Infine con Confede e Campeggio vivremo insieme l'emozionante rally dei giovani e dell'amicizia che si svolta a Sorrento.